Sto usando mio cellulare, perché non tengo camera nel mio computer, perché loro dicevano che la mia camera, il computer è troppo bene, non ho bisogno di un webcam, però mi piace molto a me nuovo. Sì, quindi hai quello che mi hai mandato, ecco, un Asus G14. Wow. Sì, sì, sì. Potente, sì. Sì, sì, sì. Sì, non è una gran differenza dell'altra, come lo stesso con RAM e SSD è solamente un processore, un processore, un processore un poco più rapido. Però… E lo hai comprato online anche questo? Sì, sì. Ok. Però è come un'impresa, a store, come si dice. Un negozio online, sì. Sì, un negozio dove io potevo comprare un computer direttamente. Ah, ok. Quindi un negozio fisico, ecco. Un negozio fisico. Un negozio fisico. Sì, online e fisico. Ah, tutto e tutto. Sì, sceltavo un… non so… what did you say? Impresa? Impresa. Impresa… Dove era possibile come prendere il computer fisicamente? Sì. Para, come… non so… ganare tempo o… Sì, sì. Ecco. Per guadagnare tempo, ecco. Per guadagnare tempo, guadagnare tempo. Esatto, anche perché oramai il tempo stringe, no? Il tempo stringe, manca poco tempo. Il tempo stringe per la partenza, per il cambio vita, no? Sì, esatto. Per il cambio vita. Esatto. Bene. Hai mai passato il Natale e il Capodanno, diciamo, all'estero, fuori dalla Svezia? Eh… sì. Ho fatto antes o prima. Una volta in Stati Uniti, per esempio. Ehm… Credo che… In Vietnam… No. Wow. Ehm… Regressava, retornava… Bravissimo. Returnava… Suecia prima… Capodanno? Capodanno, sì. Ehm… Sì, però… È solo un dia. Anche io la penso come te, un giorno è un giorno, basta. Sì, poi un paio di persone, wow, un giorno. E soprattutto quest'anno, ecco, che in Svezia forse sono più aperti, ecco, ma in Spagna qua e in Italia anche stanno chiudendo tutto, ecco, per Natale massimo 5, 6, 7, 8, tutto così. E tutte le persone fuori in protesta, in rivolta, no? Vogliamo fare tutto il Natale insieme, in 20, in 30, la famiglia, tutto quanto. Io che dico, ma per un giorno, ma che cambia alla fine? Cioè, già sono mesi che stiamo in quarantena, stiamo pochi, pochi gruppi, per un giorno è Natale, cioè, non è un problema, ecco, non fare, no? Tutta la gente protesta, ore e ore di proteste, di tutto, no? E spiegami una cosa, come mai ti trovavi in Vietnam? Ehm, come, o perché? Perché, perché stavi in Vietnam? Come mai? Ehm, era, era poché, me, 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 gusto mucho Asia in fronte, o me piace mucho Asia in fronte, in general, e io non che aveva, come, visto molto in Vietnam, come solamente in, 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 in Thailandia, In vacazioni Vacazioni No, vacanza In vacanza Tutti I anni Tutti i anni Più o meno E Era più facile Para me Lavorare come un professor In Vietnam I stipendi Erano Migliori Migliori Perfetto E Anche Era una cosa Interessante Provare algo Differente Sì Provare Qualcosa Differente Esatto Lavoravi online In Thailand No Vietnam Fisicamente Wow Guadagnavi In dollari In euro In corona Svedesi No Era differente Ovviamente Però No ma Dollari O Come on Dong De Vietnam Penso sia Dong Sì vediamo Valuta Vietnam Vediamo come si chiama Dong Sì Quanto è il cambio In euro Vediamo In euro Sono grandi In Francia Sì Quindi ecco Il Vietnam È ancora più Economico Rispetto Alla Thailandia Sì Un po' Più Sì Un po' Più Ma È Tambien Anche Un Una cultura Totalmente Differente No È Come E Per Questo Come Era interessante Sì Non so Experienzare O Sì Fare Esperienza Ecco Sperimentare Sperimentare O fare Esperienza Ecco Sperimentare Anche a me a volte Entra il chip Dello Spagnolo Dentro No E quindi Metto una E Metto una S Dove non dovrei Mettere una E Una S Quindi anch'io a volte Ho lo spagnolo Come Come Capito Parati Tambien Sì 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 È che Vivo tutto il giorno Con lo spagnolo Qua A Bilbao In Spagna Ecco E allora a volte Quando no Sento Sai perché Gli spagnoli Soprattutto Mettono Le parole Per esempio Che iniziano Con S P No Per esempio O S T Ecco Diciamo S più Consonante No Come Stadio O Spaghetti E loro mettono Una E Prima E stadio E spaghetti No E quindi Quando sento Quella E Faccio un po' Di Confusione Sempre Per dire In italiano E con la E Senza la E Ecco Perché sono parole simili Sai Sono molto simili Sì E quindi ecco Per fare esperienza Per sperimentare Il Vietnam Hai vissuto lì Per quanto tempo? In total Erano Più o meno Diez Mesi Però Dos o tre Mesi Sono stato In Thailandia Una Messe Come Quando Io Stavo Facendo Un Con Un Curso De Tefl Che 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 Si 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 Y Dopo Un Un Mes En Ho Chi Minh City Que era un Poco Troppo Para mi Con Ocho Milioni Oye Sin Sin Un Realmente Un Un Trabajo No Se Mucho De Un Trabajo Solamente Un Hora Al Día O Algo Ritornavo De Thailandia Vacaciones Por Dos Mesi O Algo Si Era Più Facile Si 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 E Despois Regressavo A Thailandia Vietnam Una Volta Di Più Però In Un Altra Città Che Si Chiama Chiama Che Si Chiama Dan I Mi Gusta Mi Piacciavo Molto Molto Vediamo Hai Vissuto A Do Cimin City E A Dan Vediamo Si O Cimin Is Come La Capital Si Dan Tiene Come A Come Un Mil Un Poco Un Po Più Di Un Mil Mil 200 E Sul Mare Proprio Si Es Es Moderna Para Para Essere Vietnam Volevi Qualcosa Più Di Mare Ecco Spiaggia Mare Un Po Più Ecco La Spiaggia Mare Purtroppo Ho avuto Solo Uno Studente Vietnamita Io In Tutte le Mie Nel Mio Anno Solo Uno Solo Uno Sì E Immagino Che In Vietnam Tu Ecco Insegnavi Insegnassi L'inglese Non Lo Svedese Non c'è Molta Richiesta Di Svedese In Vietnam No No Bene Wow Vedo che Da Nang È una città Molto Turistica Anche Ci sono Resort Si Però Si È Come È Non È È È Crescendo Come Città Però Non 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 È Troppo Che È È Un È Troppo È Frustrante O Algo Non Però Tu Puoi Definitivamente Vedere In La spiaggia, come i hoteli, come fuori o vicino della strada, con moltissimi hotel, definitivamente, sì. Wow. Quindi ecco, eri anche ad un passo dalla Cina, eri vicinissimo alla Cina anche. Sì, vicino della Cina? Sì, e sei mai stato in Cina? No, non è come così interessante per me. Ovviamente posso visitare una vez, però non è il mio, non so, il mio sogno di visitare Cina. Sì, non è il mio sogno. No, esatto. Ok. Mi hai detto che ti piace molto l'Asia. L'Asia è molto grande, ecco. Che zone in particolare ti piacciono dell'Asia? Per esempio il sud-est asiatico o l'Asia del nord, ecco, perché è molto, è molto grande l'Asia. chiaro. Sono stato più in Asia del sud, no? Tailandia, Vietnam, è stato in Borneo, Prentian Island, quindi uno dei dias di Malaysia, quindi non è stato in molti paesi, però è sufficiente per, non so, per disfrutare. Come si dice? Per godere, ecco possiamo dire, per godere, per divertirmi, ecco, in diversi paesi. Per divertirmi, ecco, per divertirmi in diversi paesi. Sei anche stato a, mi hai detto a Borneo, dove? Ah sì, Sipidan, credo. Era come un un dia, un giorno del, non sei, del bosco, un giorno del bosco, come the rainforest, no? Ah, della giungla. Sì, però la cosa più importante per me era, come dive nel mar, no? A te piace fare, piace fare, piace fare, piace fare, immersione, ecco, non mi ricordo. È diving, immersione. Sì, immersione subacqua, subacqua, immersione, semplicemente. Immersione come, come immersion. Esatto, una immersione subacqua. È una parola interessante, specialmente in un un paio di posti, no? È realmente immersione. Sì. Sipidan fuè come fantastico, è come, era come nadar, come si dice? Nuotare. Nuotare. Nuotare, in una, non sei la parola, la parola aquarium. Uguale, acquario. Acquario. Un acquario, sì, era incredibile. di, no, adesso, vedevo. Sì. Ho visto, vedevo. Dimmi, dimmi tutto quello che vuoi dire, vediamo. Ho visto molti pesci, ovviamente, come sharks, come i turtles, muy tortugas, tortugas, molto, 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 grande. Sì. Wow, wow. Ecco, non pensavo che amassi così tanto l'immersione, ecco. Sì, Borneo è famoso, come un, un posto, uno dei più famosi posti in, 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 in Asia. Sì. È difficile, come, trovare il tempo per andare a Sipidan, perché tu necessitas, come, rimanere, rimanere, sì. Rimanere, come un hotel, come un posto, e è come, e la immersione non è come così buona come in Sipidan. Sì. Sì. E per avere, come un giorno in Sipidan, normalmente è, devi bisogno di, come, rimanere, rimanere per 4 o 5 giorni per solo un giorno in Sipidan. Sì, è molto popolare, perché tu necessitas, bisogno di, devi, no, bisogno, you need to, bisogno? hai bisogno di riservare come molto tempo prima molto tempo prima o molto prima molto prima o molto tempo prima esatto io ancora non ho trovato questo posto in Borneo come si scrive per favore vediamo si si Borneo Sipidon Sipidon vediamo è una isla ah ok wow è piccolissima una isla vulcano come si dice vulcanica una isla vulcanica esatto una isola vulcanica vulcanica una isla vulcanica e è come la prima cinque metri o algo è come si tu puoi camminare o andare in l'acqua però dopo come dieci metri o algo è come siete cento metri come così poi boom si 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 e solamente per questo perché è come molto profondo non so è possibile vedere come pesci molto raro più grande più grande nel mar wow quindi ecco è una condizione geografica unica praticamente perché quest'isola dove c'è quel mare una spiaggia e poi ce ne sono cinque metri e poi il niente il vuoto più totale per centinaia o migliaia forse di chilometri wow ed è una isola remota proprio remota remota sì però remota borneo è praticamente remota è come fuori borneo però non posso ricordare però forse ho bisogno di come driving a boat mangiare guidare guidare in un barco per un'ora o 40 minuti o due ore non posso ricordare ok quindi con una nave con una barca con una barca con una barca è un dia no? è come un viaggio un viaggio di un dia normalmente total con con queste lo è praticamente quando sei stato là ecco come sei arrivato a Borneo prima con un aereo da Vietnam direttamente ho bisogno di pensare non ricordo totalmente però stavo viajando era 2013 e stavo visitando unos diferentes lugares in Tailandia e dopo non Vietnam io è stato in Perindian Island per una settimana una isola io tambien facevo emozioni e despues Borneo creo però per viaggiare viaggiare non se Tailandia di Malaysia o algo sì quindi ecco a te piace molto questa cosa dei tropici ecco questi posti un po' tropicali vedo come mai come mai ecco perché non ti piace il clima svedese quindi cambi tutto è tropico tropicale proprio sto facendo perché non mi piace il clima della Svezia o che no ecco dici no dico che ti piace molto il clima tropicale perché sei cresciuto in Svezia e questo contrasto ti piace molto giusto sì è forse per questo sono stato innamorato di Tailandia all'inizio come 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 un grande per la grande differenza della società totalmente come il clima il il tutto è come un shock la prima volta sì sì era come un bambino no io tuve come 30 anni anni però però adesso è come notizias vecchias o vecchie notizias vecchie sì come non è più una novità ecco non è non è più una novità ecco non è più una novità tutta questa cosa quindi ecco non è solo il clima che ti ha colpito ma anche tutta la cultura che ti ha veramente colpito ecco sì è totalmente differente sì che svezia no e e e non solamente in un un modo si dice un modo si dice in un modo è un modo sì 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 però in tutti normalmente ho in la maggioria in un in in modi migliori è scopo quindi hai molti ragioni per per viaggiare qui no a qua per per viaggiare ecco tu ora sei in Svezia io sono in Spagna per viaggiare là ecco là per viaggiare là esatto e invece ecco sarà un altro cambio sarà un altro shock il clima e la cultura colombiana perché non hai mai vissuto il Sud America tu esatto però ma creo il clima no è come no è un problema creo però il clima non so sarà solamente una cosa non so no amivo non so like nice o come una cosa il clima sarà gradevole esatto gradevole sì sarà gradevole ecco come aiuterà ecco il clima esatto aiuta tutto il resto sì sì però creo che io tengo o più cose che è come più cose che staranno aiutando a mio non so a me will help me che mi aiuteranno che mi aiuteranno che mi aiuteranno perché la la prima volta no realmente avevo un trabaccio come come non sapevo veramente tutti i giorni che avevo bisogno di lavorare avevo dinero quindi più più facile sapere che ho un lavoro in linea come algo come un basso non sei come un sì anche è è è è è è ho risparmiato ho risparmiato ho risparmiato molto molto dinero molti soldi risparmiato quindi posso relazare posso rilassarmi bravo posso rilassarmi e anche ho la la lingua questa volta è come che ho come la come il fondo come tutte le cose che sono importanti però ovviamente no è impossibile sapere però io ho molte cose che sono importanti esatto quindi vediamo se ho capito bene ecco con la con tutta l'esperienza degli ultimi anni con la maturità degli ultimi anni ecco e soprattutto anche con una tranquillità economica che hai sarà molto più facile questo cambio di vita e soprattutto sarà molto più gradevole perché non avrai quella preoccupazione oddio devo guadagnare se no sono in un altro paese ho dei problemi devo lavorare no ecco hai una tranquillità che ti permetterà di vivere pienamente il tuo nuovo paese esatto 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 sì è una buona interpretazione non so come dici lo sai mi è capitato a me nella mia brevissima esperienza da digital nomad ecco perché un anno fa prima del covid ecco avevo fatto un mese due fuori come digital nomad sempre in Europa ecco qui in Spagna e ti devo dire che sai mi ero incontrato diciamo nel paradosso del digital ma lavoro tutto il giorno per guadagnare online per vivere là ma non uscivo e non facevo molto perché dovevo lavorare per guadagnare per vivere e alla fine mi ritrovavo in un altro posto lavorando tutto il giorno con il computer online e mi sono detto un mese qua lavorando online non ho vissuto molto del luogo sai quindi era un po' il paradosso del digital nomad ecco sì credo che dipende dal tuo lavoro non ho per farlo come grazie vola e una esperienza credo che è importante non lavorare troppo e per questo sarà buono per me perché normalmente è come due o tre ore per il giorno e non è molto molto dinero per me è come lavorare per vivere sarà impossibile massimo meno risparmiare risparmiare però ma posso tenere un più grande peso che adesso no vivere più come un re però io tengo mi picchina appartamento horrible come 28 metri squadrati non sei come diciamo quadrati si ovviamente è totalmente nuovoso vivere come come questo però funziona è possibile risparmiare molti dinero molti soldi per esempio e però ma se ho ho fatto la la decisione è accettato accettato che per prima volta in mio video non è così importante risparmiare e posso solamente divertirmi 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 sì assolutamente assolutamente sì guarda infatti ecco se il digital nomad lo vedi come un'esperienza breve nella tua vita allora sì assolutamente sì l'obiettivo non è risparmiare fuori l'obiettivo diciamo è ammortizzare ammortizzare ovvero andare in negativo ogni singolo mese ma poco il meno possibile ecco non è guadagnare 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 anche se spendi più di quanto guadagni ogni mese ecco che sia poco questo gap no che sia poco questo gap che sia poco così hai più tempo per vivere queste esperienze il discorso cambia totalmente se il digital nomad è una cosa che farai per per dieci anni per venti anni ok allora lì sì che devi risparmiare molto però se lo fai per un anno non succede niente esatto sì unica unica la unica unica situazione l'unica situazione la unica la unica situazione quando sarebbe possibile come perdire molti dinero sarebbe se tu stava stava facendo dating con Shakira o algo in questa situazione sì sta bene non è un problema con Shakira sta bene quindi quindi tu quindi tu eri il famosissimo ex di Shakira no quando quando Shakira stava insieme a te no no infatti voy a no via viaggerò sì per come cansare con Shakira ovviamente però Shakira no 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 se ya no necessito come intendere o capire sì 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 ecco diciamo che Shakira non ti merita non ti merita lei non merita te no però esatto però esatto hai visto il video con con Black Eyed Peace quando creo che è nuovo no nuovo no allora Black Eyed Peace e Shakira hai bisogno di velo jambi è incredibile credo che credo che Shakira ha come non sai 40 due settimane fa ok 42 o algo 43 wow ok signorita si exacto latina è buona rappresentazione di Colombia si non so penso che Shakira viva in Spagna spesso no perché è sposata con un giocatore del Barcellona si Piquet con Piquet si 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 credo che sarà come un sarei I would be sarò sarò contento più o meno in mia vita se stavo giocando di Barcellona e come in pomeriggio è come quando regresso da mia casa ho Shakira là i parmi si sta bene sta bene sta bene perché no e soprattutto la tranquillità economica anche oltre si anche però è come Shakira e Barcelona è come due le più più difficili cose nella vita è come esatto troppo troppo non è una cosa due cose che sono troppo difficili sì 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 assolutamente sì ecco io sarei felice anche non con il Barcellona ma con una squadra un po' più piccola sì 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 però Shakira no necessita essere Barcelona o qualcosa forse atletico real sì 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 non sei Granada no Shakira no 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 tengo l'opportunità in Granada sì 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 bene ecco come ecco ora che lo hai detto com'è il calcio in Svezia si sente molto molto eh calcio calcio o non tanto in Svezia no 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 creo che siamo come così così passionati come in Italia è quasi impossibile come in general in Europa del Sud o Latinoamerica è è è è differente è differente creo sì però è il sport nazionale in Svezia come si dice sport nazionale sport nazionale sport nazionale sport nazionale ma no è come si le come si dice the man è dimenticato o dimenticato the man uomo ah uomine gli uomini ok gli uomini ehm normalmente però no not tutti ma con con le donne più raro che le donne stanno piacce piacce il calcio che alle donne stanno piacciono il calcio gli piace che le piace che gli piace ora gli piace perché the woman a loro gli piace a loro ok gli piace che a loro che è la frase ora che gli piace a loro che a loro piace tutte e due vanno 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 bene ecco tutte e due vanno bene che a loro piace che a loro piace che a loro piace le donne a loro piace se usi va bene va bene sì sì allora facciamo alle donne piace il calcio più semplice possibile ecco alle donne piace al fine grazie sì sì no anch'io sai cerco sempre di semplificare l'italiano per voi ecco perché non c'è bisogno di usarlo sai con la grammatica perfetta anche perché la grammatica perfetta dell'italiano è un po' artificiale ecco perché l'italiano come già ti avevo detto era una lingua creata per gli intellettuali che avevano moltissimo tempo per parlare per articolare tutto quanto e non importa poco in una maniera Dante non sta d'accordo no no tu italiano perfetta Dante non piace piace molto sì sì esatto no creo che con con una differenza di come paesi come svesia in i paesi scandinavi come se dice i paesi scandinavi scandinavi e come europa del sud di latino america c'è un più grande di porcentaggio della popolazione che delle donne che anche piace il sport per esempio calza sì le donne sono migliori in questi paesi sì e guarda lo svedese più famoso di tutti i tempi è forse la persona meno svedese esteticamente Zlatan Ibrahimovic ecco è la persona che se uno pensa a uno svedese no ecco uno pensa ad uno biondo con gli occhi azzurri alto invece no Zlatan Ibrahimovic è lo svedese classico all'estero ecco all'estero sì con tempo però ci ok ci 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 voleva tempo in Svezia per come accettare accettare però ci ci voleva ci voleva tempo un paio di persone è anche difficile come che essere di Svezia che è cosa tipica di Svezia però ovviamente è un immigrante immigrante di Svezia che ha fatto buone cose che ha come reached raggiunto success come success che grandi success che ha riaggiunto grandi success è raggiunto grandi success è come come American dream però in Svezia perché è stato cresciuto o para el si è cresciuto è cresciuto è cresciuto in Rosengård che è come un più peggiore peggiore sì peggiore qui in città è come una più famosa persona in Svezia ovviamente è intressante Zlatan sì assolutamente sì però sua personalità no c'è una conexione di persone di Svezia normalmente è come in Svezia abbiamo algo che si chiama Jantelogen che è una cosa che è molto vecchio che è è quasi come una modificazione di un testo di religione o qualcosa no è come ordine è come 10 commands è come ok credo che tu puoi googliare Jantelogen vediamo tu puoi verlo in inglese come un codice di condotta sì esatto tu no no crei che no credi che tu eras così importante o no credi che tu sei più importante del stato stati come the state sì tu sei più importante dello stato ecco ho visto i dieci comandamenti che dicono non credere di essere qualcosa di speciale uno non credere di valere quanto noi non credere di essere più furbo di noi non immaginarti di essere migliore di noi non credere di saperne più di noi non credere di essere più di noi non credere di essere capace di qualcosa non ridere di noi non credere che a qualcuno importi di te e non credere di poterci insegnare qualcosa wow wow non lo sapevo ecco che c'era questa cosa è come quando tu 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 no quando vedi questo vedi questo è come Corea del Nord o Cina è è mio primo pensiero è come il Stato è il Dio è come il più importante di altre cose è come per me non avevo piaciuto o avevo piacere essere no esatto non avevo piacere ecco non mi piaceva direttamente non mi piaceva questa questo mantra ecco sì nunca mai non mi piaceva queste cose che è come il il collettivo è più importante che altre cose io creo si dice anzi come anzi sì anzi io credo che con un molto forte non sto dicendo che individualismo è tutti come negli Stati Uniti però con un paese che con molti forti persone anche anche tu collettivo sarà più forte o algo è come no 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 esiste un posto para ti è più importante come alcazar le persone che no non sanno niente niente di ronau non sanno per per mi non è che la persona non importante però è come un pensiero che non siamo come raggiungi, non stiamo raggiungendo, non stiamo raggiungendo come persone di come ottenere successo, è una cosa che è un po' triste. Capisco assolutamente, non conoscevo questo questo modello comportamentale, ecco, nordico, scandinavo, wow, wow. Però non sto dicendo che almeno, almeno oggi che stiamo leggendo questo in scuola, questo è come molto vecchio, vecchio, però è come, esiste ancora un po' in la cultura, no? È come, se tu hai come molto confidenza in tu proprio, yourself, tu mismo, tu proprio, come tu... Inter stesso. Inter stesso, è la altra persona, è come, non, non, sì, non è molto popolare, no? Sì. E per questo Zlatan, come un fenomeno, è stato un po' un po' problematico per un paio di persone in Svezia, e specialmente tu hai famosa personalità, come della television, per esempio, e per loro bisogno, vanno? They bisogno molto tempo per finalmente dire, ok, Zlatan è un buono giocatore. Lo capisco, no? No, 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 diciamo che lo capisco, wow. Questo è un discorso molto lungo e complicato che faremo un'altra volta, ecco. Un'altra volta, ma può essere questa della legge di Jante, no? Ecco, la Jante-Lagen, ecco. Può essere questo la chiave del successo dei paesi nordici, ecco, perché pensano molto nella collettività, ecco, pensano molto nell'insieme più che nell'individuo. Può essere questa la chiave di perché sono paesi così sviluppati, così con un welfare molto, molto alto, ecco. C'è un welfare molto alto e tutto. Questo è un discorso per un'altra volta, ecco. Quando vuoi. Sì, 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 claro, per la prossima. Wow. Bene, Pontus. Grazie mille. Allora, vedo che il computer nuovo va. Ah no, questo qua non è il computer nuovo, giusto? Sì, è il mio nuovo. Ah, ok. Che compre, compravo una nuova ayer che mi piace molto e sto usando con il mio cellulare con una HD camera e tutti è più meglio mi encanta il mio computer esatto è rapido è come sleek, minimalistico sì quindi usi il telefono come webcam in streaming più o meno pongo il mio cellulare in la pantalla più o meno alla destra e sto mirando tu in la finestra di Skype cerca vicino di mio cellulare è perfetto però è una miglior qualità e non ho bisogno di comprare un webcam di mia vita esatto esatto bene grazie mille allora Ponto se noi ci vediamo a Natale il 25 25 sì sì ci vediamo ciao 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 ciao